Un teatro sperimentale gremito ha applaudito martedì sera la prima mondiale del documentario Siamo qui, siamo vivi, che racconta la storia di Alfredo Sarano e della sua famiglia scampata alla Shoah, tratto dal libro di Roberto Mazzoli, prodotto da Armand Julian e diretto da Daniele Ceccarini. Una prima promossa all'International Police Award Festival, che ha visto anche gli applausi della senatrice a vita Liliana Segre, autrice tra l'altro della prefazione del libro di Mazzoli Un autore che ha recuperato il diario di Sarano che ha permesso di riscrivere una pagina fondamentale della Shoah italiana. Sarano era infatti il segretario della comunità israelitica di Milano e fu colui che nel 1943 decise di nascondere le liste dei 14.000 ebrei milanesi salvandoli in larga parte dai campi di sterminio. La famiglia Sarano riuscì a nascondersi fino al termine della guerra a Monbaroccio protetta nel convento francescano del Beato Sante e aiutata anche da Eric Eder, ufficiale della Wehrmacht che decise di trasgredire agli ordini di Hitler. Questa storia nasce dalle ricerche che ho effettuato nel 2012 per ritrovare alcune famiglie ebrei che erano sopravvissute alla Shoah nascondendosi nel convento del Beato Sante e queste ricerche sono andate avanti diciamo senza grandi risultati fin quando sono riuscito a ritrovare in Israele la famiglia Sarano che aveva a sua volta tenuto in un cassetto un diario molto prezioso scritto da Alfredo Sarano che era il segretario della comunità ebraica di Milano il quale nel 1943 dopo l'occupazione di Milano aveva salvato le liste di ben 14.000 ebrei molti dei quali si salveranno così dai campi di sterminio. Daniele Ceccarini è il regista dei 30 minuti di docufilm che dopo l'anteprima di Pesero girerà per i principali festival internazionali tra cui Cannes, Toronto e Amsterdam. In questa storia quando ne sono venuto a conoscenza mi ha subito emozionato fortemente mi ha colpito da subito la grande forza che portavano con sé i protagonisti di questa vicenda una storia meravigliosa in cui mi ha colpito subito la forza del messaggio, quello che portava con sé queste persone hanno saputo scegliere il giusto in un contesto terribile che era quello della guerra hanno saputo fare la scelta giusta e le vite di Enric Hedder e Alfredo Sarano sono sempre state parallele si sono sfiorate per un attimo e entrambi hanno saputo fare una scelta senza che l'altro fosse a conoscenza di questa scelta e questo ha portato alla salvezza di tantissime persone e quindi credo che sia un messaggio molto attuale anche oggi che possa essere di forte insegnamento questa storia, queste persone e questo documentario. Io sono qui perché rappresento il convento del Beato Sante dove gran parte del documentario è stato svolto è il luogo dove si sono svolti fatti importanti riguardo alla Shoah è il luogo dove padre Raffaelli, padre sante Raffaelli ha accolto, ha difeso tante persone è il luogo dove veramente è stata vissuta una storia e io oggi rivivendo insieme a tanti amici questa storia tramite il documentario per noi frati è stato veramente un onore è un modo per anche far conoscere la grandezza e la bellezza del santuario del Beato Sante. Il valore di questo documentario per noi è immenso perché racchiude la storia di oltre 50 anni, 60 anni, 70 anni di cultura mombaroccese, quello che si salvò, quelli che si salvarono all'interno di quelle grotte hanno fatto seguito a quello che fece la famiglia Perazzini, la famiglia Ciaffoni famiglie del territorio che oggi ritroviamo ora come allora nell'ottica del sociale del volersi bene, del confronto, del salvare le vite altrui ci ritroviamo a promuovere un territorio grazie a un uomo giusto un giusto premiato fra i giusti e che questo sia di esempio anche per i nostri ragazzi delle scuole che oggi ritrovano nel premio Luci nel Buio un valore immenso nel ricordo di quello che è una persona che ha fatto del bene salvando loro ma salvando anche se stesso e salvando oggi quello che è la memoria per questi ragazzi che alle scuole ogni anno si ritrovano per ricordare il valore di questa immensa persona.